A niente valsa la lettera appello che la mamma di uno studente del liceo Livia è rivolto al presidente della provincia Francesco Pugelli e al sindaco di Prato Matteo Biffoni che tra l'altro è stato il presidente della provincia prima di Pugelli per scongiurare l'ipotesi di una terza sede della scuola in via delle fonti nell'edificio dell'associazione culturale italo-cinese Ars Genius. Un luogo lontano dalla sede principale in via Marini e dalla seconda a Rodarino in via Galcianese e quindi scomodo e che tra l'altro non risolve del tutto i problemi di spazio del liceo tanto che il bar dell'edificio di via Marini dovrà essere trasformato in un'aula. Un pasticcio che creerà grandi disagi a studenti, genitori e insegnanti. Un pasticcio frutto di una programmazione carente nonostante da tempo l'istituto chiedesse risposte concrete al problema degli spazi. Pugelli non ha dato speranze. Mi chiedo perché la dirigente Maria Grazia Ciambellotti abbia proposto di utilizzare gli spazi in esubero all'istituto Marco Polo solo ora e non a inizio anno quando ho effettuato una ricognizione tra sindaci e presidi a caccia di spazi utili. Ora è troppo tardi per tornare indietro, ho già firmato il contratto. Ma è per un anno. Per i successivi potrebbe esserci un'alternativa interessante da valutare per dare una soluzione temporanea ma funzionale alla scuola in attesa che sia pronta la nuova sede, l'unico modo per risolvere del tutto i problemi di spazi del Livi. Mi sono preso un impegno e lo porterò avanti. Il progetto è stato già presentato al MIUR per il finanziamento. Attendiamo notizie. Nel frattempo dobbiamo procedere con le succursali. Ancora non è chiaro chi andrà in via delle fonti e chi nelle altre due sedi ma sicuramente sarà un periodo molto complicato per docenti, studenti e le loro famiglie.